È importante per l'alimentazione, per la crescita dei ragazzi, il pesce azzurro nelle scuole. Abbiamo ritenuto opportuno insieme alle autorità scolastiche, insieme alle famiglie che ci avevano sollecitato, insieme all'istruzione dei nostri ragazzi, estendere questa opportunità del pesce azzurro in tutte le scuole della città di Vallefoglia. Pensiamo che questo sia importante, una cosa buona e che possa far bene alla salute perché, come diciamo sempre, la salute a Vallefoglia viene al primo punto. Dovrebbe iniziare i prossimi giorni la GEMOS, che è coloro che gestiscono le mense del comune, che hanno un'attenzione, una sensibilità anche loro e hanno un rapporto quotidiano insieme agli insegnanti, insieme all'assessore di istruzione, che è il vice sindaco, insieme a tutta la comunità scolastica, che appunto pensano che sia una novità, insomma sia una cosa importante e che fa bene alla salute dei nostri cittadini. GEMOS ha messo a disposizione tutte le sue capacità, la sua esperienza e noi abbiamo fortemente apprezzato. Per noi l'iniziativa è significativa ed importante, soprattutto in questo periodo storico, per tutte le problematiche che stiamo vivendo. Pensare di riuscire a migliorare il servizio, quindi la qualità dell'offerta per i nostri studenti all'inizio dell'anno scolastico era assolutamente impensabile. Consideriamo che per le prescrizioni Covid abbiamo dovuto rivedere completamente l'organizzazione delle mense scolastiche in tutti i plessi, dalla distribuzione diversa ovviamente degli spazi, alla previsione di doppi turni, quindi è stato complicatissimo e devo ringraziare l'estrema disponibilità della ditta GEMOS e del personale ATA che hanno contribuito a far sì che le mense potessero essere attivate. Quindi adesso riuscire addirittura a migliorare il servizio per noi è una cosa che ci fa piacere. Volevamo comunicare a tutte le famiglie, ai genitori, perché il servizio mensa è significativo, non è solo un momento di socializzazione dei bambini, ma è anche educativo dal punto di vista di quello che viene presentato, di approcciarsi a dei piatti diversi, quindi è un momento significativo e importante. L'iniziativa è nata dietro proposta fatta dal concessionario del servizio di riflessione scolastica, la ditta GEMOS di Faenza, che ha appunto proposto questo prodotto fresco. Il prodotto fresco è ovviamente in base alle disponibilità del fornitore, perché essendo appunto fresco non sempre è possibile uscire in mare per la pesca. E abbiamo proposto questa modifica del menu al servizio igiene e nutrizione dell'Azur, che ha immediatamente accolto in maniera positiva e favorevole questa introduzione del prodotto fresco nel menu e ha autorizzato e vidimato le nuove tabelle menu appunto. Quindi sicuramente è un valore aggiunto nel servizio che il Comune di Vallefoglia offre alle famiglie dei bambini che utilizzano il servizio mensa.